Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, restano quelli attratti per traffico verso nord tra Firenze Nord e P1 Variante, possibili disagi inoltre per veicoli fermi in avaria tra Firenze Sud e in Sido Reggello, verso Sud in A1 e in A11 tra l'altro Bascio e Capannori in direzione di Pisa. Traffico intenso anche nelle località della costa, tra le altre segnaliamo rallentamenti sulla SP224 Marina di Pisa, tra Marina di Pisa e Calambrone. Segneremo che anche oggi, domenica 30 luglio, è giornata da Bollino Rosso su strade e autostrade. Per quanto riguarda le statali sono interessate la statale 1 Aurelia, il raccordo Firenze-Siena e la statale 223 tra Siena e Grosseto. Raccomandiamo di guidare con prudenza. Buonasera, sento Scana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie!